E allora voi siete lì a Roma da ieri mattina, quali sono le novità, se ci sono novità? No, guarda, purtroppo novità nessuna. Abbiamo dovuto chiedere comunque l'autorizzazione alla Questura per poter stare qui davanti a Montecitorio, ci hanno utilizzato per ieri pomeriggio, adesso per questa mattina, di pomeriggio saremo davanti al Ministero degli Esteri. Novità purtroppo nessuna, scende ogni tanto qualche parlamentare, chiede, dirà che ci daranno aiuto. No, no, nessuno, non abbiamo più notizie dopo quella famosa telefonata, non abbiamo avuto più nessun notizie, né dai merittimi, né dalle fondi governative. Voi resterete lì fino a quando? Noi saremo qui fino a quando non ci hanno ascolto e fino a quando non riusciranno a risolvere questo problema. Questa almeno è la nostra intenzione e penso che la porteremo avanti perché siamo veramente disperati.